Buongiorno da Las Vegas, dove il 27 maggio scorso è partita la 45esima edizione delle World Series of Poker 2014, l'evento pokeristico più atteso dell'anno. L'Italian Poker Team è schierato all'evento 60, pronto a portare in alto i colori azzurri. Alle 12 in punto il tournament director delle World Series of Poker ha pronunciato la fatidica frase dello shuffle up and deal e l'evento 60 ha potuto finalmente avere inizio. L'Italian Poker Team è schierato ed è rappresentato da Lupinetti, Godina, Coccioni, Annis, Virgilio, Mosca, Festa, Musu, Ricciotti, Bravin, Primiano, Albanese, Viali e Gasparotto. Un grande in bocca al lupo da tutti noi. Alla fine della pausa cena e dopo sei livelli di gioco finisce la possibilità per l'ingresso tardivo in questo evento 60 delle World Series of Poker. Il tabellone registra un numero di ingressi decisamente importante, sono 2.563 i giocatori che hanno preso parte a questo evento. Un prize pool di quasi 3.500.000 dollari, 270 posizioni premiate ed una prima moneta che supera i 600.000 dollari. Ancora tre alfieri in gioco per l'Italian Poker Team. Roberto Godina, Christian Viali e David Bravin. Da Las Vegas per oggi è tutto, appuntamento a domani con il Day 2 dell'Evento 60.